. Albano e Loredana, lindiscrezione a pomeriggio 5. Il giorno dopo lintervista a Loredana Leciso a Domenica Live, Barbara Durso torna a parlare del triangolo amoroso attorno ad Albano Carrisi. Gli ospiti in studio commentano quanto accaduto e arriva unindiscrezione. Dopo lo scoop di ieri è iniziata la marcia di riavvicinamento tra Albano e Loredana, dicono in studio i bene informati. Intanto continuano a esserci le fazioni. Cè chi sostiene lattuale compagna del cantante, chi invece vorrebbe vedere riunita la coppia storica e propende per Romina Power. . In molti sottolineano, tuttavia, che lamericana non avrebbe dovuto interferire e che le sue provocazioni non sono rispettose. . Intanto, Loredana ribadisce il suo amore per il padre di due dei suoi figli. Alla conduttrice ha detto ieri che è ancora molto innamorata, ma che per il momento ha bisogno di stare lontana. . La Leciso è andata via da Cellino San Marco per raggiungere il fratello a Pavia. Voglio però precisare che nessuno ha lasciato nessuno, ha detto nellintervista di ieri pomeriggio. . . . .